Buongiorno amici di Professione LED, oggi facciamo la recensione di un prodotto che ci è arrivato in questi giorni. Come voi sapete noi siamo un rivenditore ufficiale di molti marchi di una certa importanza, fra cui anche la Viva LED, che fa dei prodotti veramente di buona qualità, ben assemblati e anche professionali. In questo caso parliamo di un proiettore LED da esterno di ultima generazione. Apriamo l'insieme per la prima volta. Allora, questa è la confezione. Hanno messo una protezione anche per il vetrino anteriore, quindi è una cosa molto buona, vuol dire che c'è cura anche nell'imballaggio, che non è una cosa oggi come oggi da sottovalutare. Qui ci sono le istruzioni. E qui abbiamo il freddo. Eccolo qua. Veramente un bel prodotto, si vede che è solido, io che lo tengo in mano vedo che è ben assemblato, ha delle buone alette di raffreddamento, compatto, diciamo le linguette che tengono fermo lo schermo. Al di sotto comunque c'è una guarnizione, perché questo prodotto, come ci dice anche la scatola, è il P65, sono fermate con dei grani esagonali, quindi anche su questo si vede una certa cura. Non sono le solite viti che troviamo in altri prodotti di importazione, che si arrugginiscono alla prima umidità, e soprattutto c'è anche una certa cura, perché ne sono quattro, quindi anche c'è stata cura nello scegliere il prodotto. Abbiamo anche la staffa regolabile, in questo caso anche qui non ci sono viti che si possono rovinare, ma c'è una chiavetta esagonale, quindi basterà allentarla e poi regolare la staffa per poter dare la regolazione di questo prodotto. E questo prodotto è classe 1, perché come vediamo qui c'è la terra, se fosse stato doppio isolamento non avremmo avuto la terra, ma avremmo avuto solo questi due cavi. In ogni caso la scatola ci dice che questo prodotto è libero da mercurio, non è dimerabile, due anni di garanzia e ha l'accensione immediata. Questo è un 20W di ultima generazione con la piastra multichip, quindi non ha il LED singolo, ma ha il multichip che permette una percentuale maggiore sia di luminosità ma anche di efficienza energetica. Accendiamolo. Noi abbiamo qui il nostro connettore rapido per accenderelo, quindi basterà dare tensione e si accenderà. Allora, fuoco alle polveri. La luce in questo caso è un bianco freddo, come potete vedere è anche molto piacevole come tonalità colore. E già a prima vista, diciamo noi che ne abbiamo visti tanti di faretti, possiamo dire che questo è un bel... Per la dimensione, per la dimensione del faretto, che è davvero contenuta, considerate, è un palmo, ok? Ecco questa qui è la dimensione, diciamo, del faretto. È un 20W, possiamo dire che è davvero tanta luce. Il costo è molto contenuto, lo trovate sul nostro sito nella sezione faretti LED professionali, è, diciamo, è equiparabile ad altri prodotti, ma questo ha però dalla sua una maggiore efficienza, sia di luminosità, ma, vi posso dire, anche di solidità del prodotto. Oltre al fatto che, essendo venduto da un'azienda nazionale, fa anche piacere poter dare l'arco, diciamo, ad aziende italiane, oltre alla solita importazione di prodotti comunque di buona qualità. Speriamo di esservi stati utili per qualunque domanda, come sempre. infochiocciolaprofessionelle.com oppure potete contattarci su Facebook, potete contattarci su Twitter o dal nostro canale YouTube. A presto!